Un investimento complessivo di circa 750.000 euro per l'Istituto Enriches di Castelfiorentino da parte della provincia di Firenze. I lavori per la scuola, che saranno consegnati il 3 marzo 2014, riguarderanno l'ampliamento dei locali del piano terra della scuola e l'aumento del numero delle aule al primo piano. Il dettaglio dei lavori è stato presentato in conferenza stampa dalla provincia di Firenze, rappresentata dall'assessore all'istruzione Giovanni Di Fede, dal sindaco di Castelfiorentino Giovanni Occhipinti e dalla preside dell'Istituto Patrizia Paperetti. L'inizio di questi lavori che porteranno al completamento dell'area dell'alberghiero e non solo, anche al completamento per una maggiore offerta formativa che potrà allocarsi in questo istituto in futuro, penso all'istituto agrario perché sarebbe la realizzazione della filiera sul territorio. L'istituto Enriquez, che è una realtà fondamentale nel territorio dell'Empolese Valdelsa, che è un polo di riferimento importantissimo, al quale appunto afferiscono ragazzi provenienti dai vari comuni della zona. Noi vogliamo potenziare sempre più questo polo, arricchendolo il più possibile di nuove opportunità. Gli interventi riguarderanno l'edificio scolastico al piano terra e al primo piano. In particolare al primo piano è prevista la realizzazione di 7 nuove aule, per una superficie complessiva di circa 360 metri quadri, oltre a 100 metri quadri tra servizi igienici e corridoi di collegamento. Sono al vaglio anche altri interventi per l'Enriquez, come l'impermalizzazione del ballatorio del primo piano, la riparazione delle infiltrazioni all'auditorio e alla palestra e il rifacimento dei marciapiedi intorno all'edificio. Interventi programmati dalla provincia, ma che potrebbero essere completati anche dal prossimo ente istituzionale che avrà in gestione gli edifici scolastici. Noi realizziamo 7 nuove aule, quindi completiamo un lavoro che iniziò tempo fa e poi aumenteremo il volume con un'altra ala al piano terra. Questo è molto atteso. Questi lavori ci permetteranno anche di affrontare gli annosi problemi di manutenzione. Noi abbiamo infiltrazioni, abbiamo la necessità di rinnovare alcuni ambienti ed alcune strutture, cosa che faremo con questo appalto. Quindi con oggi possiamo dire inizia un lavoro sull'Enriquez di risanamento e di migliorie, ma anche su tutto l'Empolese Valdelsa.